Fofanà, spazio per Fofanà, entra in aria, Fofanà, Fofanà, messo giù, altro calcio di rigore, il terzo della partita. Parte seco Fofanà e anche questa volta il pallone termina in rete alle spalle di Pugioni. 4-0 per l'Udinese. Si scrive nel tabellino anche Fofanà al 95esimo il rigore vincente, il terzo della partita dopo quelli realizzati già da De Paul nel primo tempo e da Maxi Lopez al 66esimo. Per tre volte Pugioni si è buttato sulla sua destra.